Buongiorno, come potete vedere oggi è un buongiorno diverso perché non sono in Inghilterra, ma sono in Spagna! Sinceramente, sono arrivata ieri, sto vloggando solamente adesso perché ero troppo esaltata diciamo, ieri siamo andati in una spiaggia qua vicino, a circa 10 minuti di distanza dal nostro hotel, solo che è abbastanza diversa come spiaggia rispetto a quella in Portogallo perché ci sono le rocce, infatti mi sono graffiata dappertutto e mi fa male tutto il corpo. Sto vloggando! Se non vi seguite su Snapchat, seguitemi! Sto andando al supermercato perché non abbiamo più acqua e cosa ne è nemmeno. So che è stranissimo che sono vestita tutta di nero, però io mi vesto sempre di nero quindi... Tutti pensano che l'italiano sia uguale allo spagnolo, però sinceramente ci sono cose che dicono qua in Spagna che sono incomprensibili. C'è voi! La tipa che doveva mettere a posto la stanza oggi. Sto dicendo qualcosa solo che non ho capito niente di quello che ha detto, proprio zero. Adesso non so se gli ho detto di venire più tardi o di venire domani, non ne ho idea. Vabbè, andiamo a sto supermercato qua perché sto già parlando troppo. Questo outfit sono i pantaloni dell'American Apollo che ho preso un sacco. di anni fa il costume che l'ho preso su Amazon. Piscina! Stavamo camminando uno di fianco all'altro. e ha sentito qualcosa perché è lì in fondo. Quindi siamo tornati da poco e praticamente tra esattamente 27 minuti al comprarlo del mio amico. Lui pensa che adesso, scusate ma sono abbronzata. Lui pensa che sono in bagno per fare qualcosa di schifo, però sinceramente sono qui per questi palli di cibo. Missione compiuta. Happy birthday! YAY! Thank you! Sì, lo che voglio è soltanto Sì, tranquilla, dejate di portare Dime se conmigo Quieras fare travesura Che se ha fatto una locura E tu è ben duta No me pu... Travesura Che se ha fatto una locura Siamo in oggi Tell us Tu devi dire in italiano Hablocando Blocando Mami, che mi stas facendo? Io non ti sto mintendo Non hai un detalle che a mi se me cape di tuo corpo E quando ti pones a hablar Mi mente sta Imaginandome il momento, il lugar Perdóname se te molesto Pero presiento Y eso va a suceder Que esta noche tu y yo Vamos a llenarnos de placeres Más Lo que me pido No Vamos a olvidarnos del teléfono A donde llego Tú dímelo Lo que yo te haga No vas a olvidar Como te diré Deja de llevar Una aventura S지만 te eterno VER Siamo andando in una In una spiaggia Ci vogliono 40 minutes E per questo Abbiamo deciso di prendere una macchina E stavolta non guido io Quanto Son Sono più o meno 32 gradi stamattina, anche se non è più mattina perché alla fine è mezzogiorno. Chi si ricorda di queste cose maledette? Chi si ricorda di queste cose? 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 Sì non sembra un disastro? well... you're wrong you're wrong bring me in she's the beautiful you're wrong baby young Buongiorno a tutti 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 Buongiorno a tutti